Si è svolta oggi sul confine tra Libano e Israele la visita della European Union Delegation presso la base 131 di Unifil al confine con Israele. Guidata dalla signora Julia Koch, vice capo della missione EUDEL presso le Nazioni Unite, la delegazione è stata accolta dal generale di brigata Francesco Olla, comandante della Joint Task Force Lebanon e ha avuto occasione di assistere a un briefing informativo che ha illustrato la storia e le caratteristiche della linea di demarcazione tra i due paesi. Il generale Olla, capo del contingente italiano con l'operazione Leonte 22esima, ha accolto l'occasione per incontrare nella stessa sede i comandanti dei Battle Group alle dipendenze per la periodica azione di comando e controllo nel complesso contesto di una grande unità composta da 12 nazioni. Ai BAT Commander Meeting hanno partecipato anche i rappresentanti del DPCA dell'Unifil Headquarters, con i quali è stato affrontato la tematica di genere nel Peacekeeping Operation. La base avanzata, sotto il controllo di un plotone del reggimento Anceri di Montebello, è l'avamposto del contingente italiano in Libano nell'ambito della missione Unifil, con l'incarico di monitorare senza sosta la Blue Line, come sancito dalla risoluzione numero 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.